buongiorno a tutti chi mi segue su facebook sa che questo weekend avevo voglia di evadere un po quindi zaino tenda zero viveri penso che mi farò la via francigeno al contrario perché effettivamente io ancora non ho deciso dove andare ho voglia di rilassarmi un po in mezzo alla natura in autosufficienza buttato così un po randaggio ovviamente tutti i sistemi tecnologici mi accompagnano sempre io senza tecnologia cioè ci so stare uguale però con la tecnologia mi diverto di più così avrò anche modo di testare appieno il pannello solare che ho acquistato qualche giorno fa che mi servirà per altre uscite tipo queste niente sono appena partito però questi tre giorni di cammino lo zaino non è leggerissimo perché non mi sono portato via il sarcofago come tenda mi sono portato via una una tenda da speed hiking da due molto più grande molto più comoda solo che pesa un po di più non è materiale professionale è una tenda leggera decathlon e insomma mi sa che sono di 5 kg va bene ciao antonella vediamo chi c'è collegata ciao antonella grazie angelo non riesco a leggere c'è troppo luce quindi ok mi farò la francigena in direzione nord anche perché così assaggio anche il percorso che voglio fare tra poco la voglio voglio provare a farmi roma firenze di corsa però quindi seguirò la francigena e non so bene ancora quale sarà il percorso lo sto studiando nel frattempo lo sto preparando a livello fisico anche questo poi sarà un allenamento lo zaino come dicevo c'è l'attrezzatura più dietro abbastanza pesante ho una decina di chili di roma addosso quindi non è che vado ancora nella farotta è una camminata abbastanza spedita ok vi aggiorno volta per volta bravo sono qua sono arrivato al circo massimo una ventina di chilometri scarso adesso vado verso san pietro poi sperando di trovare aperto voglio andare a trovare un amico che ha una pizzeria al taglio così dovrò salutare e mi mangio un pezzetto di pizza ciao ciao allora sono qua a roma ormai sto attraversando l'isola tiberina vado verso città del vaticano e in modo ad arrivare a piazza san pietro da dove inizierà la via francese vera e propria finora più o meno tutto bene ho un problema sotto il piede sinistro il mio solito mediatarso doloroso che mi dà abbastanza fastidio ciao Antonella sì mi dà un po' fastidio quindi devo rallentare un po' non mi sono messo le Olympus perché? perché non lo so perché se me le mettevo era meglio mi sono messo un paio di scarpe un po' più rigide che mi stanno dando un po' fastidio vabbè basta che riduca un po' il ritmo tra poco vedo di passare anche per la pizzeria al taglio di un amico in modo da fare un po' di merenda quanti chilometri ho fatto? ah non molti sono pure ventino sto andando proprio a passo tranquillo tranquillo va bene allora vado verso san pietro e poi mi sposto un po' verso fuori rotta per andare a trovare questo amico mangiarmi un paio di fette di pizza una birretta e poi riprendo quindi ci vediamo tra poco che faccio un collegamento pure con lui ciao e c'è tempo ancora prima di arrivare stanotte non so dove dormo più tardi vedo non so vai sono no Sono arrivato a Piazza San Pietro, vediamo se riesco a girare. Eccomi, e da qua inizia il viaggio, perché questi 20 km ancora sono serviti per scaldare le scarpe, vediamo se riesco a farvi fare un tour panoramico, è solo che ho il sole in faccia, quindi non viene bene, andiamo. Allora, per Paolo che mi ha chiesto come si pionirà il piazza di Piazza di Piazza di Piazza, pianifica un viaggio così. Allora, io Paolo non l'ho pianificato, o meglio, ho preparato lo zaino per star via un po' di tempo, che ormai qualche esperienza su quello ce l'ho, però c'è più che esperienza, bisogna aver chiaro cosa serve. A me serviva la tenda, la tenda leggera, però comoda, non il sarcofago da uno che mi risulta troppo scomodo. Questo vuole essere un viaggio comodo per me, a parte il male al piede. E quindi, una tenda piccola, comoda, la mia con i picchetti, quelli un po' più grossi, in tutto, pesa 4-5 kg, poi un materassino, materassino, che è un materassino gonfiabile, che è grande come una bottiglia da un litro d'acqua, poi cambio due magliette, due paia di mutande, un paio di calzoncini corti, due paia di calze, e un paio di scarpe che ce l'ho addosso, e un paio di ciabatte. Come si scelgono? Ah, poi un asciugamano, vabbè, le cose per lavarsi, se riesce, dei contenitori per l'acqua, perché qua a Roma sono sicuro di trovarla, l'acqua in giro non lo so, spero di sì. Come si scelgono i posti per fermarsi? Di solito si scelgono sulla base dei chilometri che si pensa di fare durante il giorno. Calcola che già 5 chilometri all'ora di media è un andare svelto. Calcola 3 chilometri all'ora per poterti fermare, guardarti attorno, a fare un po' di foto, ecco, prendetela con molta calma. Infatti io ho iniziato ad un passo abbastanza veloce però ho rallentato. Portati anche un paio di bastoni, bastoni magari a un certo punto diventano comodi per scaricare il peso dello zaino perché comunque già solo con il peso della tenda zaino ha un peso importante, soprattutto se non è una tenda super tecnica. E io dove mi fermerò in questo cammino? Non ne ho idea, sono partito senza pianificare niente e dove trovo un posto appartato, preferibilmente non cittadino. Magari a ridosso di un bosco, di un'area verde e in disparte mi fermo per riposare. quel tanto per appunto riposarsi e ripartire all'alba domani mattina. e questo è quanto. Se devi pensare di fare un viaggio di molti giorni magari privilegi un carico molto leggero e organizzati le soste, i nostelli, bed and breakfast e cose così. Se invece prevedi di fare un paio di giorni come me, un paio di notti, magari ti puoi anche arrangiare con tutto quello che ti serve. Per il cibo mi fermo ai market e lo prendo man mano che ne ho bisogno. Se so che devo fare dei lunghi tratti dove difficilmente troverò un market o un negozio, magari faccio un po' di scorta. Ok, ciao a dopo. Mi hanno chiamato, ciao a tutti. Sono allora amico mio, aveva chiuso presto, quindi sono andato a cercarmi un'altra pizzeria al taglio. Ho fatto scorta, mi sono mangiato tutto subito, però mi sono tenuto un po' di pista bianca per dopo. Poi sono andato a prendermi un po' di cose per la colazione di domani mattina. Mi sono preso un latte di soia al cioccolato e due confessioni di Oreo per risvegliarmi bene. E per stasera c'ho una birra che l'ho comprata fresca. Spero che rimanga fresca, almeno fino a quando non decido di fermarmi. Dove dormirò? Boh, sono ancora abbastanza indietro perché stanotte non penso, anzi stasera che stanotte dormo, non penso di riuscire a superare il raccordo anulare. Quindi dovrò trovarmi una riserva naturale dove buttarmi a dormire. Mi fa un po' impressione dormire dentro Roma perché è come se stessi dormendo nel mio cortile di casa. Allora un attimo solo che devo guardare la mappa. Ok, devo vedere la mappa. Adesso vabbè, io proseguo fino a quando è possibile. Adesso vi saluto perché devo controllare la mappa. Ok, a dopo. Ok, allora per oggi stop. Mi sono accampato, non vi dico dove. C'è un sacco di gente in giro, vi dico solo questo. Niente, ok, sono le nove e mezzo. Spero di... che nessuno mi rompa i coglioni stanotte. Andarmi un po' e verso le quattro conto di alzarmi, sistemare tutto quanto e andarmene e riprendere il cammino. Fa caldo, fa molto caldo, c'è pieno di lucciole. Sto bevendo la mia birretta. E ecco, ripeto, speriamo che nessuno rompa i coglioni. Dai, ci vediamo domani mattina. Ciao. Buongiorno. 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 buongiorno buongiorno a tutti beccate visto il panorama della capitale e questo invece è il delirio con cui ho dovuto combattere stanotte a combattere i ragazzini hanno fatto una festa c'è tutto il sentiero pieno di rifiuti di bottiglie di come si chiamano i lattoni quelli da cinque litri di birra bottiglie vuote sono qua sulla riserva di di montemario eh sì perché ho passato ho passato la notte qua fortunatamente nessuno mi ha rotto i coglioni però direttamente però hanno fatto tutti un casino impressionante un casino veramente impressionante va bene allora io riprendo guardate che sono qua riserva naturale di montemario niente ho fatto ho passato la notte lì e buongiorno se non fosse stato per i ragazzini imbriachi che hanno strelato tutta notte sarebbe stata una notte ottima guarda pure il vittoriano si vede da qua vediamo se riesco a farlo vedere con il telefono si vede poco va bene comunque tutto ok riprendo riprendo il mio percorso ci vediamo dopo il telefono si vede poco Grazie a tutti. 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 Una fontanella a breve per rifare scorta. Ho aperto i pannelli solari, sto caricando il battery bank, ho già caricato il telefono, sto caricando anche il Garmin e non so se si vede, ce l'ho appiccicato qua dietro lo zaino. Comunque dopo ve lo faccio vedere meglio. Ok, come vedete qua sembra di essere sull'autodromo. E' uno dei più posti più brutti, ci rivediamo tra poco. Ciao. Mi direi che esistiamo. una bella mangiata l'antico mulino a veio, facciamoli pubblicità perché ho mangiato proprio bene. pagato anche bene, sta proprio qua, sta proprio qua, all'entrata del parco. bene, sono soddisfatto, sono contento e rilassato. particolare rientrare nei ristoranti dopo il lockdown, dopo tutto quello che si è sentito dire e discusso sui locali pubblici. E guarda caso, cioè la sfiga proprio vuole, che avevo un tizio dietro di me con la fossetta, quella nervosa, continuamente. tutti i camerieri con la mascherina, con i guanti, anche il menù, non ti danno il menù ma ti danno un codice a barre che tu lo inquadri e con il telefono ti apre il menù che te lo vai a vedere su internet. ti danno anche il wifi perché nel caso, ah sì, nel caso non prendi al telefono ma tu non abbia un piano dati, loro ti danno il wifi, ti guarda il tuo menù su internet, ti fai la tua ordinazione e godi servito e riverito, soprattutto in questi giorni che stanno ripartendo, insomma, sembra che ci tengano molto a far bella figura. io ci tenevo a dare anche il mio, il mio contributo anche a loro. Va bene, allora, sono sempre la stessa fontana di prima, del, dello scorso video, fontana, cascata, perché mi sono buttato nel prato, mi sono riposato un po', e sono stato fermo così in paio d'ore, mi sono, mi sono fermato a mangiare, questa è la cascata che vi ho fatto vedere prima. un paio di grotte, questa è zona etrusca, infatti qui c'è anche una cittadella etrusca dove passerò tra poco. bene, allora, con lo stomaco pieno e pronto a sfruttare tutta questa nuova energia. ah, mi sono portato via il pane, perché hanno un pane buonissimo qua, mi ho preso proprio il sacchettino del coperto e me lo son messo nello zaino. va bene, ok, ora riprendo, tranquillamente, senza forzare troppo, dove arrivo arrivo, spero di arrivare almeno appena dopo Formello. sono 15-20 km, spero di arrivare a Formello per la spesa di questa sera e la colazione di domani mattina e poi mi butto a dormire da qualche parte all'altezza dell'olgiata. va bene, spero che sia venuto bene questo video perché vedo che ci sono dei problemi di connessione. ok, allora riprendo, riprendo anche il Garmin, ciao, a dopo. questo solo per voi, my friends, guardate che spettacolo, dopo il rumore assordante della città, delle strade, dell'inquinamento, lo schifo, degli esseri umani. eccoci qua, nel mio ambiente quasi naturale. guardate il vento, non so se lo vedete, che fa le onde sul grano. che spettacolo, questa, questa, questa è vita, ho la pelle d'oca ragazzi, ho davvero la pelle d'oca. guardate che spettacolo, che meraviglia. poi dopo la buffata di bruschetta, i porcini, melanzane, con, con, che cos'era, pressemolo, peperoncino, mezze maniche ai porcini, patate al forno. era proprio quello che ci voleva. oh, guardate, io, cioè, veramente, mi dispiace che non riesco a trasmettere, forse, le emozioni che sto provando in questo momento. ma sto, godendo, guarda che bello, sto, sto godendo in un modo indecente. ah, fanculo covid-19, cazzo. ah, ma guardate che figata, il vento sulle spighe, che sembra di essere al mare. cioè, nel senso che fa le onde, fa le onde sul, sul grano. ah, che goduria, ragazzi. dove sono? dove sono? sono nel parco di veio. sono a circa... boh, non lo so dove. nel parco di veio. questa, in teoria, dovrebbe essere la via francigena, ancora, se non mi sono perso. ed è bellissimo, tutto molto bello. eh, non riesco a vedere i vostri messaggi. andiamo. la libertà, cazzo, puoi dirlo forte. così, così, Cosma. adesso vi faccio vedere la mia faccia, godereccia. non riesco a vedermi, c'è troppo, c'è troppo luce. qua dietro il pannello solare, sta ricaricando tutto quanto. bene. ok, allora, auguro a tutti un buon sabato, un buon weekend. seguitemi su instagram, potete vedere le dirette che ogni tanto faccio, gli vari aggiornamenti. e sulla mia pagina facebook, alla sera pubblico il collage delle dirette, se volete vedere un po'. questo piccolo, questa piccola fuga, questa full immersion di libertà. sono partito ieri da casa e sto seguendo la via francigena a tornare su. ho fatto poco più di 50 chilometri, più o meno. e vado verso formello. ciao, ciao a tutti, a dopo. ciao a tutti. 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 vedi sono arrivato a formello allora mi sa che qui cerco qualcosa dove mi sa che qui vado a cercarmi qualcosa per lo spuntino e per la cena anche perché è ancora presto ma il prossimo centro abitato è campagnano è abbastanza distante dovrebbero essere poco più di 10 chilometri aspettate che provo a passare di qua che non so se ho segnale che 10 chilometri di questo passo passano molto lentamente quindi mi prenderò qualcosa da mangiare da qualche parte e mi accamperò per strada qua tra formello e campagnano in modo da essere vicino a campagnano per per domani mattina e andare a fare colazione al paese intanto mi faccio un giretto qua per il bordo che non ci sono mai stato e ne approfitto per visitarlo se per i gatti lo faccio vedere anche voi va che è meglio del mio faccione ecco qua mi avete chiesto se uso la traccia sul garmin no non lo uso perché sto usando l'applicazione della via francigena che ha già tutta la traccia è molto pratica io mi sono scaricato tramite l'applicazione le tracce in il locale sul telefono ogni tanto la apro per vedere se sono sulla strada giusta qua non so se prende il telefono le indicazioni sì le indicazioni ci sono è ben segnalata la via francigena ma facendolo al contrario le indicazioni un po traggono in inganno quindi consiglio comunque di utilizzare una una traccia che sia la guida cartacea o l'applicazione la guida cartacea l'avevo ordinata che mi arrivasse per prima della partenza ma mi è arrivata la notifica di mancato mancato recapito proprio mezz'ora dopo che sono partito quindi niente me la studierò quando torno a casa questo è lo struscio di formello vediamo una fontana faccio un po di ricarica di acqua queste acque sono saluberrime dalle sorgenti carissima tre cannelle a sodlievo e decoro anche io avrei bisogno di fare un po di decoro cambio l'altra della porrazza che è piuttosto calda ok ok bene allora sono indeciso se prendermi subito da mangiare ebbene ebbene ha detto grazie ha detto grazie o andare al supermercato vabbè adesso ci penso e dopo ve lo dopo ve lo dico ciao ciao eccomi eccomi qua eccomi qua allora alla fine sono arrivato a campagnano romano e anche perché i posti sono arrivato a campagnano romano i posti più fighi dove potevo accamparmi erano tutti troppo lontani cioè erano ancora a formello praticamente e quindi sono andato avanti 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 finché ho trovato il posto più spero idoneo dove mettere la tenda in realtà sono dentro la campagna di qualcuno ho aperto il cancello sono entrato e spero spero che non mi rompano i coglioni quindi adesso mi sistemo qua sono manco un'ora al tramonto quindi penso che ormai di sabato sera qui non venga più nessuno quindi io qua ci piatto la mia tenda e domani mattina come stamattina me ne vado all'alba sperando che questa sera non ci siano animali umani a tenermi sveglio ma sono abbastanza vicino alla strada l'unica cosa spero che non ci siano cani che mi vengono a rompere i coglioni se no mi tocca sgridarli se volete farmi compagnia merda mentre faccio la tenda così vedete anche questa black and fresh della chechua che è molto figa e pratica ecco questa sera non ci saranno i ragazzoni ubriachi ma ci saranno le macchine che faranno rumore poco male cinghiali qua ce ne sono parecchi però spero solo che non mi vengano a grufolare dentro la tenda l'unico mio pensiero è quel casottino la tenuto bene bene che da noi vicino a roma i casottini così di solito c'è ci abita il pakistano e i pakistani sono tutti bravi e buoni e carini ma se gli vai a rompere le balle a casa loro si incastano che pensano che tu gli vada a far del male allora escono con la mannaia preventiva perché dicono chi mena per primo mena due volte ma non vorrei neanche andare la controllare di persona perché se ci sono i cani da caccia in questa zona anche di cacciatori iniziano ad abbagliare e smettono quando me ne vado domani ma se iniziano ad abbagliare come farsi i vicini chiamano il proprietario che mi viene a sparare ma è una ma è una ecco praticamente la tenda è già fatta non è una secolo però quasi è una quattro secolo ma forse con ecco qua ecco qua metto solamente due picchetti per tenere la porta la porta ben aperta in modo che circoli un po' l'aria uno qua e uno qua e uno dietro ok ora ve la faccio vedere al volo questa è la mia tendina ok che vuol dire che ora grazie a me puoi bere tantissimo ma che stai a dire va bene ragazzuoli e mi sistemo ceno e vado a dormire ci si vede domani mattina ciao buongiorno a quest'ora difficile che ci sia qualcuno sveglia a guardare le mie dirette comunque tutto tutto bene la notte ho passata bene tranquilla qualche animaletto a un certo punto è venuto a curiosare e lo sentivo zampettare però non è voluto venire in tenda con me il proprietario del terreno non si è fatto sentire quindi non si è fatto vedere quindi tutto a posto io l'ho lasciato tutto perfetto pulito niente adesso mi sono spostato qua su questo parcheggio perché la tenda è completamente bagnata e la faccio asciugare un paio di minuti prima di chiuderla e partire qua sono gli impianti sportivi di campagnano romano oggi dovrò fare una variazione oggi una variazione pesante sulla via francigena infatti dovrò abbandonare la francigena e andare in direzione est la francigena va verso ovest io andrò verso est perché devo cercare di avvicinarmi ad una stazione per prendere il treno per tornare indietro e penso che arriverò a capena ma capena da qua sono poco più di 10 km mi sembra 10-15 km adesso lo vedo man mano che percorrerò la strada e niente mi dispiace dover cambiare il percorso però da sutri e quei posti lì insomma dove passo la via francigena praticamente i treni non ci sono sono limitati e vetrallo o viterbo comunque sono troppo lontani da raggiungere e dovrei stare fuori altri due giorni e non ce la faccio perché comunque lunedì devo lavorare e va bene dai allora adesso vado dentro a campagnano mi faccio un caffè vedo se trovo la fontana per lavarmi un po' la faccia e i denti perché mi sento veramente un po' appiccicoso e incrostato e va bene ora asciugo un po' la tenda come vedete oggi sono pure un po' vestito stamattina perché fa abbastanza fresco ho già fatto colazione con le cose che mi sono preso ieri e ok finisco di prepararmi e parto ciao buona giornata a tutti buona domenica ah non sono riuscito a caricare il video di ieri il montaggio di ieri perché il telefono non ce la fa erano 45 minuti di video sono tanti però erano molto carini però il telefono non è riuscito a montarli ora che piego la tenda riprovo a fargli fare l'elaborazione del montaggio video e niente ci riprovo ciao ieri buongiorno niente provo a fare la mattata mi butto in questi altri 45 chilometri da fare a tempo di record per riuscire a prendere il treno che da vetralla non importerà austiense forse spero poi una volta che arrivo a roma stanotte spero di riuscire a trovare qualcosa che mi porti fino a casa sennò devo farmi altri 20 chilometri a piedi va bene dai ora ci provo devo rimanere concentrato adesso tiro fuori anche i bastoni che non li ho usati fino adesso ma devo spingere non mi fermerò a tralto a casteggiare a stendermi mi goderò il paesaggio niente spero di riuscire a prendere il treno in tempo dai ci aggiorniamo tra poco ciao ciao l'aria grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Mi sono divorato un panino enorme, avocado e pomodori. Ah, sono a Sutri, eh? E' un pozzottone, quei panini con la porchetta, tutto lurido. Mi è venuto veramente un po' il vomito quando l'ho visto, anche solo pensarci. Mi sono guardato in giro, ho visto che c'era una frutteria, ho detto vabbè, buttiamoci sulla frutta. Fortunatamente, intanto vi faccio vedere Sutri da lontano. E niente, c'era questa coppia che aveva anche, c'era un mini market con frutteria, no? Uh, acqua, acqua che però è chiusa. No, dai, è aperta, non tanto, ma è aperta, tanto per riempire la borraccia. Allora, aveva sto pane bellissimo. Anzi, prima ero nato là perché c'era scritto pizza, ho detto vabbè, prenderò una pizza rossa. Solo che era tutta pizza con mozzarella, quindi ho detto vabbè, c'hai solo mozzarella, che mi fai? Ma ti posso fare un panino? Mi fa, è tipo pomodori, insalata, io ero già lì che godevo. E tonno, no, ho detto tonno no. Allora mi fa lei neanche formaggio allora, aveva capito tutto subito. Allora, ci penso io, ti faccio un bel panino con insalata e pomodoro. Vabbè, sto per uscire, vedo degli avocado maturi, bellissimi proprio. Ho detto, senti, fammi sti panini con pomodoro e avocado. Allora, va bene, ti faccio il panino quello lungo, il filoncino. Sì, sì, oh, non si riempi più. 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 Sì, oh, non si riempi più. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, è arrivato alla stazione, altri 4 chilometri penso. Allora, stavo ascoltando il messaggio. Allora, sono arrivato alla stazione, vedete che ho la maglietta via di San Francesco, ultratrail, per finire la giornata, per finire il tour. Sono arrivato alla stazione di Capranica Scalo, Capranica Sutri, non so se si vede. E per pochi minuti ho perso il treno per una mezz'ora abbondante. Vabbè, comunque, speravo ci fosse quello delle 16 e 17, invece il prossimo treno alle 17 e 17, quindi mi farò un'ora qui tranquillo a riposare le gambe. Ah, aspetta che mi tolgo le scarpe. Alla fine i chilometri oggi sono stati 35, fatti veramente a tempo di record. Non lo so a quanto sarei arrivato oggi, se fosse stata una giornata normale, probabilmente sarei anche andato più piano. Comunque, sì, a sole 16, 35 chilometri, ho completato i miei 100 che mi ero dato come obiettivo per il weekend. Così mi sono fatto anch'io il passatore virtuale, con questo ragazzino di 12 kg sulle spalle, che con la tenda bagnata non osi immaginare quanto pesi adesso. Ah, ma c'ho anche quest'altro ragazzino qua, che non sembra, ma è bello carico. E va bene, comunque, i primi, anzi, gli ultimi 100 chilometri di questa via francigena sono particolari, sono vari. Ci sono ampie zone molto belle, in mezzo alla natura incontaminata. Ci sono altre dove ti fai dei chilometri sulla strada, però, vabbè, la via francigena è tanta. Io l'ho fatto solamente un decimo. È stato interessante, interessante. Faticoso, perché comunque ho tenuto un buon ritmo con sto carico non da poco. Poi è faticoso soprattutto oggi, perché oggi avevo la paranoia del cibo, avevo la paranoia degli orari, avevo la paranoia del treno e la paranoia di dover tornare a casa entro oggi. La paranoia di riuscire ad arrivare anche ad un orario decente a Roma, perché da Roma io comunque devo arrivare a Marino e lì devo prendere un altro mezzo, altrimenti sono altri 20 chilometri a piedi che, diciamo, sarebbero il minimo. Ok, comunque sono soddisfatto, sono soddisfatto. Oh, le formiche, le formiche che mi semagnano i piedi. Anzi, sapete che c'è? Io mi tolgo anche le scarpe e rimango in ciabatte, cioè le scarpe, le calze. Che ciabatte ce li ho? C'è una sera. Non so se avete sentito il mio video di prima, però non penso perché non si è pubblicato. Cioè avevo dei problemi di connessione, comunque a Sutri, che non l'ho fatto il giro nel paese perché volevo arrivare qua velocemente. Comunque ho trovato da mangiare. L'alternativa era uno zossone dove c'erano i motociclisti, postaccio veramente putrido, con porchetta. Cioè il tizio era unto, o meno, era ancora più unto della porchetta. Ok, per fortuna il posto era molto fetido, così me ne sono andato lì vicino ad una frutteria. Guardate, guardate, c'ho l'aureola. E sono andato lì vicino ad una frutteria di, non so se erano africani o cosa, perché avevo letto pizza. Sono entrato, c'erano tre pizze incroci scalosissime, ho sperato che fossero tutte con la mozzarella. Infatti gliel'ho chiesto e fortunatamente anche quella con le patate era con la mozzarella e quindi ho detto no, allora niente, mi dispiace. Però la tizia è stata molto intelligente. Guardate quanto è sul sudicio. Vedete il segno? Eh, non è l'abbronzatura, quello è il sudicio. Avete visto il segno? Questa telecamera si vede meglio. Vedete? Sì, perché mi sono lavato con le salviette, ma non è che ci si lava bene con le salviette. Vabbè, allora la signora è molto intraprendente e mi fa, ma se vuoi ti posso fare un panino con l'insalata e i pomodori, perché già aveva capito che non mangiavo animali o derivati dalla spremitura di animali. E allora gli ho detto sì, sì, guarda, va benissimo. Io c'avevo una fame. Poi c'aveva dei filoni di pane caseleccio che erano la fine del mondo. Mentre sto per uscire vedo la cassetta di avocado e ok, è fatta. Mi fermo e gli dico, signora, senta, ci può mettere un avocado e il pomodoro? Il panino più buono che abbia mai mangiato in questi ultimi tre giorni. È stato l'unico panino che ho mangiato, ma era molto molto buono e sono rimasto soddisfatto. Mi ha dato forza, coraggio e passione. È stato particolare il tratto dopo Sutri all'interno di un bosco, una zona molto umida con ruscelli, torrenti, cascatelle. Molto bello, sembrava di essere nella giungla, tipo predator, sia come colori, come felci. Molto bello. Peccato che non me lo sono gustato perché andavo veloce, andavo un po' di fretta. Però è carino. Bisognerà tornare anche a Sutri a vedere com'è sta città. L'unica cosa è che mi sto un po' sui coglioni perché mi sembra sia sgarbi il sindaco di Sutri. Uno di solito a queste cose non ci pensa, però quando penso a quanto è coglionazzo quell'uomo, non so, poi alla fine penso anche che la città ne risenta. Comunque, ora aspetto le 17-17. Qua c'è l'aeroporto qua vicino, le 17-17 dovrebbe arrivare il mio treno, arriverò a Roma alle 7-7 e mezzo. E poi, prima o poi, arriverò a casa. Non so come... È perché questo treno così tardi mi ha scombusolato un po' i piani. Spero di non dovermi fare a piedi anche l'ultimo tratto di 20 km. Se non sarà possibile farli diversamente farò così. Comunque, ok, 102 dovrebbero essere i chilometri fatti. Da venerdì alle 15-40, a domenica oggi alle 16 più o meno. Ok, vabbè dai, vedo se riesco in questi giorni a montare i video perché il telefono non è riuscito a montare, non sono neanche riuscito a caricare il video di ieri. Ora ci riprovo, tanto non c'è niente da fare. Dai ragazzi, ciao a tutti e grazie per avermi supportato guardando i miei video, le mie dirette, le mie storie. Ciao!